Sembra che la partita biodigestore per Fano e per Aset diventi sempre più un pantano limaccioso dal quale il comune e la partecipata faranno fatica ad uscire. Marche Multiservizi, che avrebbe dovuto essere partner in questo oneroso progetto, a vantaggio di tutta la collettività, abbia deciso di ballare da solo questo waltzer, informando, a quanto è dato sapere, il comune di Urbino sull'idea di presentare l'istanza in provincia. La zona più accreditata sulla quale sorgerebbe l'impianto è quella di Cannavaccio, alle porte della città ducale. Ma che cosa ha fatto fare a Marche Multiservizi questo colpo di coda, lasciando Aset ed il comune di Fano con il cerino acceso in mano? Probabilmente la ragione sta nel fatto che Aset ha annunciato un nuovo studio di fattibilità, che allungherebbe così ulteriormente i tempi e questo metterebbe a rischio le centinaia di migliaia di euro di ecoincentivi. E questo è un rischio che Marche Multiservizi non vuole assolutamente correre. La notizia pubblicata dalla stampa oggi su questa virata stretta della SPA pesarese è stata una vera pentola di acqua bollente in testa ai compagni di Progetto Fanesi. Noi non eravamo al corrente di questa decisione né ufficialmente né ufficiosamente, quindi è stata una specie di fulmine a Celserino, prendiamo atto di questa cosa, riteniamo che siamo due società diverse, nel senso che hanno delle modalità operative diverse. Noi siamo una società completamente pubblica, magari più lenta, però dobbiamo badare determinati risultati. Loro sono una società con una forte partecipazione privata, dove c'è una componente anche lì pubblica, probabilmente hanno delle modalità diverse di confrontarsi con determinati problemi e anche degli obiettivi diversi. Se quindi Fano mettesse definitivamente in soffitta il progetto biodigestore, Fano direbbe ciao agli ecobonus, ciao alle riduzioni sull'Atari, ciao ad abbattere i costi di smaltimento, come più volte c'è stato detto, e ciaone anche al biocompost di qualità superiore da rivendere al mondo agricolo, che avrebbe fruttato entrate fresche e quindi finanziato altri progetti a vantaggio di tutta la collettività fanese. Ora la palla però passa dalla proprietà, quindi dal comune di Fano, ma il sindaco Seri, da noi interpellato oggi a riguardo, per il momento non rilascia dichiarazioni in merito, si riserva di analizzare meglio tutti gli aspetti di questa intricata vicenda.